Musica Benvenuti al consiglio di appuntamento con l'informazione in diretta di Antenna Sud. Partiamo subito con la nostra prima notizia ed andiamo a Brindisi. E di un bancario di 47 anni di Bari, il corpo senza vita ritrovato questa mattina sulla spiaggia della Litorania a nord di Brindisi. Era scomparso lo scorso giovedì il 47enne, piegato di banca di Bari e ritrovato senza vita nella mattinata di domenica presso la spiaggia di Lido, Granchiorosso, Litorania a nord di Brindisi. Sono stati gli stessi familiari dell'uomo che ne avevano denunciato la scomparsa e identificarne la salma trasportata dal mare per giorni. La scoperta era stata fatta nella mattinata di domenica da un uomo che passeggiava in spiaggia. Da lì di intervento dei poliziotti della Questura, sezione volanti e scientifica della Capitaneria di Porto e del 118, sono stati gli agenti a collegare il macabro ritrovamento con la scomparsa del 47enne. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano rinvenuto alcuni effetti personali dell'uomo sulla spiaggia di Torre a Mare a sud di Bari. L'auto del bancario si trovava invece in zona Grotta Regina, un mistero solo parzialmente risolto con il ritrovamento della salma, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed andiamo a Biceglie dove nel pomeriggio un treno ha investito un quarantenne proprio sui binari. Traffico ferroviario congestionato nel tratto della stazione di Biceglie dove un treno in corsa ha investito un uomo nel pomeriggio di domenica. Il tragico episodio è accaduto poco dopo le 17 con la circolazione che è stata bloccata in particolare sulla linea tra Pescara e Bari. Sul posto è giunta dopo pochi minuti l'autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. In stazione anche i carabinieri e un'ambulanza, ancora sconosciute le generalità della vittima, che sarebbe un uomo di 40 anni. L'investimento è avvenuto lungo i binari della linea adriatica di competenza di rete ferroviaria italiana, che nei minuti successivi all'accaduto ha riprogrammato la circolazione di giornata. Sono 17 i treni che hanno subito variazioni di orario, di cui 10 frecce, 4 intercity e 3 regionali. Parzialmente cancellati invece altri due regionali da Foggia a Bari e viceversa, con Barletta, stazione di partenza e capolinea provvisori. E sempre a Biceglie, un 26enne stato ferito all'alba durante una lite all'interno della discoteca di F, l'ex Divine Follie. Un nuovo accoltellamento nella BAT. Stavolta, durante un evento musicale, un ragazzo di 26 anni è stato aggredito in un altro club di Biceglie ed è rimasto ferito dopo alcuni fendenti all'addome a linguine, trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita dai primi soccorsi prestati al ragazzo le ferite causate dall'arma da taglio. Sarebbero sei all'origine dell'aggressione, ci sarebbe uno spintone all'interno della discoteca con una conseguente colluttazione con alcuni sconosciuti. L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 5, nelle fasi conclusive dell'evento musicale all'interno della struttura, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine. Ci sarebbero state in quel momento circa 2000 persone sull'accaduto. Indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura di Trani, al vaglio degli inquirenti, le immagini di videosorveglianza ed eventuali testimonianze dei presenti per individuare i responsabili dell'aggressione. Ed andiamo a Taranto, pistolettate davanti ad un rivenditore di auto e danni a due veicoli. È successo proprio alla periferia della città. I carabinieri sono al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto a identificare gli autori degli spari. Gli investigatori stanno vagliando varie piste attraverso la ricostruzione dei fatti. Al momento una delle ipotesi potrebbe essere quella di un atto intimidatorio. Le indagini sono in corso da parte degli uomini della sezione operativa dei militari della compagnia di Taranto. Sarà necessario fare piena luce sul misterioso e grave episodio avvenuto nella serata di sabato, poco prima dell'evento in via consiglio alla periferia orientale di Taranto. Sono stati esplosi otto colpi d'arma da fuoco. Una pistola calibro 9x21 non ci sono stati feriti. Il fatto si è verificato nei pressi di una rivendita di automobili. Cinque dei proiettili si sono conficcati sulla carrozzeria di due auto che si trovavano parcheggiate nei pressi della concessionaria. Due contro una Smart e tre su una Nissan Qashqai. Entrambe le vetture pare fossero in conto vendita. I carabinieri della scientifica hanno trovato sull'asfalto gli otto bossoli. Il luogo dove è avvenuta la sparatoria risulta molto trafficato, soprattutto da veicoli, in quanto si tratta di un'arteria che conduce al vicino centro commerciale. E parliamo di elezioni comunali. In sei candidati alla fascia tricolore a Manfredonia, mentre un testa a testa a Carmiano, Comune Salentino, urne aperte per l'ultima volta e possiamo dire per le ultimissime ore, tranne in casa di ballottaggio nel centro garganico. Prima di archiviare la tornata elettorale delle comunali. Sono Manfredonia e Carmiano a chiudere la tornata delle comunali pugliesi in sette in totale i centri su scala nazionale rinnovo per volontà del ministro dell'interno Lucena Lamorgesia dopo lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità. Poche ore insomma. Prima di mettere in archivio la cabina elettorale, al voto anche la vicina Scanzano Ionico in provincia di Matera, niente alleanza giallorossa sul Gargano, sei aspiranti alla fascia tricolore, venti liste, 465 candidati agli scranni in consiglio. Il centro-sinistra ci arriva diviso tra l'ex sindaco Gaetano Principe e Maria Teresa Valente. I 5 stelle puntano invece tutto su Raffaele Fatone. Il centro-destra schiera, l'ex numero uno di Confindustria Gianni Rotice, civica Giulia Fresca. In quota ad azione di Carlo Calenda invece, Tommaso Rinaldi. Se nessuno di loro dovesse ottenere il via libera per prendere il timone dell'amministrazione che verrà, toccherà aspettare i tempi supplementari. È il 21 novembre per il ballottaggio. Nel centro dell'Eccesa invece, l'ex sindaco Giancarlo Mazzotta sfida Gianni Eroi, suo vice assessore all'epoca dello scioglimento, due liste in questo caso, e un testa a testa secco. Da una parte ritorniamo insieme, dall'altra la formazione La Matita partecipiamo. E parliamo di istituzioni, parliamo di Regione Puglia. Da via Gentile puntano ad accelerare sulle procedure per assumere le 721 figure previste dal piano di assunzione. Il chiavistello potrebbe però arrivare dalla legge sullo stato di emergenza. I primi contratti potrebbero arrivare già a dicembre. Da via Gentile puntano ad accelerare sulle procedure per assumere le 721 figure previste dal piano assunzionale. Il nodo in compenso resta quello di sempre. Come farlo? Conciliando le necessità della macchina burocratica con quelle degli uffici, che chiedono personale e i rinforzi previsti nel documento presentato nello scorso mese di giugno. E allora? La novità potrebbe essere quella di natura strettamente tecnica, ma ugualmente vicina a lascia passare. Secondo quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno nei corridoi dell'assessorato al personale, l'idea sarebbe quella di utilizzare la legge sullo stato di emergenza e nello specifico la norma che permette di articolare i concorsi su un'unica prova scritta, rendendo dunque più snella la procedura degli stessi, cheppure non dovrebbe applicarsi ai 209 posti per la cosiddetta categoria D. Se in questo caso si dovesse mantenere il doppio binario, che comprende scritto e orale, l'ingresso inorganico dei professionisti in questione non arriverebbe prima dell'estate. Ancora ignoto invece se in caso di un unico test per gli aspiranti dipendenti regionali si opterà per domande a risposta aperta o meno, insomma con o senza crocetta da porre sull'opzione prescelta. Bandi attesi ento metà dicembre, prima dell'anno nuovo inoltre, otterranno l'ambito risponso anche gli aspiranti ad un posto da telefonista per il numero unico dell'emergenza urgenza 112. E si è conclusa con successo dell'Ucraino Danilo Sarienko la 59esima edizione dell'International Piano Competition Arcangelo Speranza di Taranto organizzato dall'omonima associazione musicale. E' l'Ucraino Danilo Sarienko, 30 anni, il vincitore della 59esima edizione dell'International Piano Competition Arcangelo Speranza di Taranto che si è svolta nella circola ufficiale della Marina Militare. Così ha decretato la giuria presieduta dalla pianista salentino Roberto Cappello e composta dagli Ubov Gromoglasova della Russia, Pavel Ionescu della Romania, Andrea Turini italiano e Olga Sdorenko dell'Ucraina. Il secondo premio è stato conquistato dall'italiano Alessio Ciprietti di Pontedera a cui sono andati anche la targa del Conservatorio Paesiello assegnata dagli studenti dell'istituto e il premio del pubblico intitolato Adelsa e Peppino Orlando. Terzo premio ex equo all'Ucraina Maria Narodisca e al coreano Min Sung Lee. 47 partecipanti provenienti da 12 paesi al primo classificato vengono garantiti un concerto nell'ambito della prossima stagione concertistica degli Amici della Musica e alcuni recital per diverse società di concerti italiane oltre a un premio di 4.000 euro. Sayenko, che nella finale ha suonato musiche di Scriabin e Litz, succede nell'albo d'oro alla francese Théo Ranganathan. Affermatosi nel 2019 e nel 2020 la storica manifestazione era stata annullata a causa della pandemia. È stata sicuramente di altissimo livello intanto per l'elevato numero di candidati che abbiamo ascoltato ma anche per il grado di preparazione da parte di questi candidati. Ora gli Amici della Musica si concentrano sulla stagione concertistica dei 100 anni. Il cartellone si aprirà il 23 novembre con un monumento del violino Uto Ugi di scena con il pianista Bruno Canino al Teatro Fusco. E parliamo di vaccini. Vaccinata con doppia dose da luglio ma ancora senza Green Pass. Accade ad una avvocatessa di Bari e le stessa che è stanca decide di denunciare l'accaduto. Doppia dose di vaccino ma senza Green Pass. Sfortunata protagonista della vicenda una avvocatessa barese. La donna ha denunciato tutto ai carabinieri dopo aver completato il ciclo vaccinale anti-covid a luglio a distanza di quattro mesi non ha ancora ricevuto il certificato verde perché nel sistema dell'ASL di Bari non risulterebbe esserci la seconda somministrazione. La donna dal 15 settembre avrebbe sollecitato più volte la risoluzione del problema con mail e pecca alla ASL interpellando persino il ministero senza riuscire a risolvere però il problema. Esaustas portò denunce ai carabinieri sottolineando le difficoltà legate alla vita lavorativa e sociale ritenendo sussistente si legge nella denuncia il reato di omissione di atti d'ufficio da parte dell'ASL. Nella denuncia la professionista ricostruisce dettagliatamente l'iter per ottenere il Green Pass fortunatamente spiega in studio sono sola e in tribunale per gli avvocati non è obbligatorio esibire il Green Pass ma il mio tempo libero è estremamente compromesso non posso andare a cinema non posso andare in ristorante non mi posso sedere in un bar non posso prendere un treno ho atteso e sollecitato in varie forme ottenendo i diversi casi anche rassicurazioni ma ad oggi conclude ancora non risulta l'avvenuta somministrazione della seconda dose ed una discarica abusiva è stata sequestrata dalla polizia locale nel Barese e sono scattate tre denunce la polizia locale ha scoperto nelle campagne di Palese vicino Bari una discarica abusiva sono tre le persone denunciate nelle campagne della zona avevano un deposito illecito di rifiuti costituito da vasconi in vetro resina sanitari in disuso decine di bidoni con scarti derivanti da attività di demolizione porta in legno da smaltire e ancora tubazioni di plastica teli plastificati guaine pannelli e fusti vuoti gli accertamenti sulla provenienza dei rifiuti sono in corso ma è stato identificato il presunto autore del deposito si tratta di un muratore che avrebbe accatastato sul terreno di proprietà dei genitori parte dei rifiuti rinvenienti della propria attività l'uomo si sarebbe giustificato spiegando di accumularli lì per poi in futuro procedere allo smaltimento dagli accertamenti però non è stato possibile documentare pergressi conferimenti a norma in discariche autorizzate tre in tutto le persone denunciate per il deposito incontrollato di rifiuti i quarantenne in concorso con i proprietari dell'area che è stata sottoposta a sequestro giudiziario e si sono celebrati sabato pomeriggio presso la cattedrale di Barletta ai funerali di Claudio la sala il 24enne accoltellato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre interno della basilica riservato ovviamente solo ai familiari amici e istituzioni mentre all'esterno sono giunti in centinaia per assistere al rito religioso proiettato sul maxischermo proprio alle spalle della chiesa il feretro inoltre ha poi ripercorso gli ultimi istanti della vittima dal locale dell'accaduto fino al punto in cui sono giunti i soccorsi affidiamo a Dio Padre della misericordia il nostro fratello Claudio che in modo inaspettato la morte ha strappato all'affetto dei suoi cari una folla gremita che ha sfidato la pioggia all'esterno della cattedrale familiari amici istituzioni all'interno per il rito religioso si sono celebrati a Barletta nella basilica di Santa Maria Maggiore i funerali di Claudio la sala il 24enne accoltellato nella notte tra il 29 e il 30 ottobre nelle vie del centro storico cittadino con mozione intensa e applausi durante il discorso di suo fratello Antonio e degli amici più stretti della vittima lui pensava anche al nostro pianeta e al suo bene forse chissà avrebbe voluto che un po' tutti ci rinfrescassimo la faccia ed aprissimo gli occhi perché in questo mondo qui in tanti li hanno ancora chiusi e in tanti in troppi li hanno chiusi per colpa di altri spero che il sacrificio di mio fratello porti a qualcosa di buono e di concreto per la sua e la nostra città sarà l'ora non ricevere più un tuo messaggio non prendere più il tuo caffè del sabato pomeriggio e non battersi solo a PlayStation la forza necessaria per affrontare tutto questo e veglia su di noi buon viaggio dottor ci vogliamo bene gli amici del locale lacrime al passaggio del feretro che ha ripercorso gli stessi passi di Claudio durante la notte tra venerdì e sabato il tratto dalla cattedrale al luogo dei soccorsi passando per il locale dell'accaduto poi l'ultimo lunghissimo saluto davanti all'altare dedicato al 24enne e da Lecce si è svolto un evento per sensibilizzare grandi e piccoli proprio sul tema delle violenze sulle donne l'obiettivo è quello di sensibilizzare i piccoli e gli adulti sul delicato tema della violenza sulle donne sui campi del centro sportivo Fair Play si è disputato il torneo denominato a testa alta che ha coinvolto circa 500 bambini all'iniziativa organizzata dall'associazione Anne Walter la sveglia e impresa mamma hanno partecipato alle scuole calcio della città un modo attraverso il quale servirà per educare anche i più piccoli ai problemi che coinvolgono oggi la nostra società e che si spera possono essere superati delle future generazioni sì questo è un appuntamento importante della nostra campagna a testa alta contro la violenza sulle donne l'abbiamo portato qui nei campi di calcio perché i bambini sono il nostro futuro e loro sono i primi che ci possono insegnare il tema del rispetto nei confronti del compagno della compagna e quindi poi nel futuro degli amici delle mogli e delle compagne è una campagna che vuole sensibilizzare per carità come tante però come racconta anche il cortometraggio di cui sono stata testimonia di tutta la campagna e i bambini sono chiamati a comprendere quanto sia importante un percorso perché anche chi subisce violenza deve alzare la testa infatti la campagna è proprio a testa alta per andare avanti con coraggio e se c'è bisogno chiedere aiuto alle istituzioni alla polizia e anche alle proprie famiglie si chiama Polpet ed è il nuovo arrivato sulla costa barese di Santo Spirito si tratta di un polpo mangia plastica per sensibilizzare i cittadini ad una raccolta differenziata virtuosa e uno stile di vita corretto infatto proprio di rispetto dell'ambiente si chiama Polpet è molto più di un contenitore del nuovo arrivato sulla costa barese di Santo Spirito si tratta di un polpo mangia plastica fratello del pesce che campeggia già da qualche settimana sulla litoranea di pane e pomodoro festa di presentazione sì ma anche occasione per sensibilizzare alla pulizia delle spiagge ad una raccolta differenziata sempre più virtuosa insieme a dei gruppi di volontari insieme all'università insieme a tutti quelli che vorranno collaborare con noi ci impegneremo nella misurazione nel campionamento dei rifiuti che poi saranno registrati su una pagina internet l'iniziativa è promossa da Riteik sostenuta dal Palazzo di Città dal Municipio Competente dall'Amio e dai volontari di Vogliamo Santo Spirito Pulita e da qui è partito il porta a porta c'è anche un simbolismo in questo un borgo marinaro come Santo Spirito il polpo forse era l'immagine migliore stiamo mettendo questi contenitori lungo tutta la costa per sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti ma anche alla riduzione della produzione dei rifiuti partendo dai più piccoli chiederemo di fare dei percorsi guidati all'interno delle scuole ma non nascondo che bisogna anche sensibilizzare gli adulti noi qui abbiamo un problema concreto lungo la costa siamo pieni di plastica che viene riversata da chi si trova lungo tutta la costa e dobbiamo cercare soltanto di sensibilizzarli e il comune di Trani presenta il progetto di riqualificazione della costa sud un'area che va da via a matinelle fino al confine con visceglie verrà sottoposta ad un'autentica trasformazione a scopo turistico gli obiettivi del sindaco Amedeo Bottaro sono quelli di migliorare il tessuto costiero e fornire servizi turistici di grande rilievo il piano di rilancio avrà una spesa di 700.000 euro e seguirà il progetto già avviato per la costa nord grazie al finanziamento del Pinqua di 30 milioni di euro La costa sud di Trani da via a matinelle fino alla strada per Biceglie avrà un nuovo volto presentato dall'amministrazione Bottaro il progetto di riqualificazione del litorale tranese tra gli obiettivi c'è quello di garantirne la foribilità turistica con servizi di primo ordine ma anche la creazione di un percorso ciclopedonale e un'area parcheggi una trasformazione che potrà potenziare una zona nevralgica della città Realizzeremo scale di accesso al mare rampe per diversamente abili passerelle ma anche praticamente interventi localizzati sulla spiaggia in roccia ma anche questi praticamente tutte mediante opere ammovibili in legno oppure la regolarizzazione superficiale della spiaggia in roccia calcarea attraverso l'utilizzo sempre di materiali ecocompatibili quindi un intervento diciamo assolutamente altamente naturalistico In conferenza stampa il sindaco Amedeo Bottaro inserisce l'opera nel piano triennale delle opere pubbliche per un processo burocratico avviato nel 2020 e concluso durante la scorsa estate con una delibera del 16 luglio le migliorie logistiche da apportare tra matinelle e zone vasche per la foribilità della costa prevedono una spesa di circa 700 mila euro già pubblicata intanto la comunicazione che predispone il vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità dell'opera avviso che riguarda circa 80 proprietari della zona il progetto di riqualificazione della costa sud segue quello della costa nord già ammesso a finanziamento del pinqua piano che ha portato a trani la somma di 30 milioni di euro ed è stato tagliato ieri nel pomeriggio a Lecce il nastro dell'agro cepacioc il salone regionale dell'artigianato agroalimentare taglio del nastro per la più grande fiera professionale del sud Italia dedicata al food e beverage agro cepacioc 10 mila metri quadri di spazio espositivo con oltre 400 prestigiosi marchi in vetrina e un ricco programma di eventi con più di 200 ore di alta formazione questa fiera ha la possibilità e l'ambizione di diventare una fiera internazionale promuovendo la nostra territorialità nel mondo sono settori che hanno sofferto tanto noi abbiamo costruito manovra economica ad aiutarli a non lasciare nessuno indietro adesso è aperto pensate al microprestio l'agro cepacioc rappresenta un punto fermo per la programmazione fieristica della nostra città giunge a un'edizione importante ormai sono tanti anni che si fa è sempre meglio tanta formazione tra le altre cose 5 giornate per professionisti del settore non solo tra workshop show cooking laboratori e concorsi professionali novità dell'edizione 2021 il panettone lab un'area laboratorio didattica ed interattiva per la lavorazione del panettone artigianale un rientro in grande stile dopo il blocco dovuto alla pandemia con tante novità ai chef stellari pronti a salire in cattedra il pasticciotto più venduto 2021 è sicuramente il crema al limone frutti di bosco e in cantiere abbiamo il pasticciotto te lo devo svelare il senza lattosio sarà il nostro prossimo prodotto di punta Siamo una torrefazione nata da qualche anno abbiamo iniziato il nostro percorso in Puglia fieri della della nostra pugliesità però ci stiamo pian piano allargando nel resto d'Italia perché sinceramente il nostro prodotto viene apprezzato e quindi riusciamo anche a valorizzare la nostra regione che quest'anno diciamo partecipiamo a un evento regionale per dare input a una commercializzazione anche locale lavoriamo in 48 nazioni i progetti sono quelli di ampliare la produzione con un nuovo stabilimento adiacente a quello che attualmente è operativo e boom di sanificazioni in tutti i settori per una ripartenza più sicura sia dai settori industriali aziendali che privati un ritorno graduale alla normalità quello che stiamo vivendo in questo periodo che ci porterà entro la fine dell'anno se tutto andrà bene a lasciarci alle spalle l'emergenza sanitaria da covid-19 importante in questo periodo il lavoro delle aziende chiamate alla sanificazione dei luoghi pubblici e privati e che stanno contribuendo al contenimento del virus e l'esperienza di Blumapul di San Cassiano che con i suoi macchinari industriali garantisce la riapertura di scuole aziende uffici in tutta sicurezza noi chiaramente ci presentiamo come professionisti del settore del cleaning siamo la Blumapul siamo professionisti per quanto riguarda la consulenza e distribuzione di tutti quelli che sono i prodotti per la sanificazione e disinfezione degli ambienti di qualsiasi tipo di superficie che va dai ristoratori agli ambienti di ricezione e anche a quelle che sono le case di cura e ambienti sanitari visto e considerato il periodo storico in cui stiamo vivendo sappiamo benissimo che ci troviamo in questi anni un po' particolari varie minacce tra cui il covid e l'inquinamento come facciamo di fronte a queste problematiche appunto noi commercializziamo sì macchine e attrezzature per la pulizia ma come queste macchine ci sono anche quelli macchinari adibiti per la sanificazione ad esempio con i relativi prodotti che abbiamo qui alle nostre spalle che sono tutti con dei principi attivi per abbattere la carica batterica e microbica in modo tale da rendere sano un ambiente sanificazione vuol dire proprio quello rendere sano un ambiente con quelle che sono le tecniche di pulizia di igienizzazione e disinfezione abbiamo sul mercato varie tipologie di prodotti la nostra scelta è una scelta ponderata soprattutto nel periodo in cui viviamo i prodotti sì devono rispettare quelli che sono i criteri per la sanificazione ovvero essendo dei presidi medici chirurgici devono contenere vari principi attivi per abbattere questa carica batterica nonché anche il periodo storico comporta anche l'inquinamento devono rispettare quelli che sono i criteri di impatto minimo ambientale ed era questa nostra ultima notizia noi vi diamo appuntamento come di consueto per l'informazione in diretta di Antenna Sud per domani mattina alle 7 con la rassegna stampa e con il Tg di Antenna Sud e intanto per questa sera vi auguriamo una buona serata sempre sulle nostre emittenti e sempre con i nostri programmi a Grazie a tutti.